Buonasera, bentrovati, vediamo i titoli di oggi. Niente fattura e dichiarazione dei redditi, albergatore stanato dalla Guardia di Finanza, ma tra chi sgarra ci sono anche lavandai, barbieri e ambulanti. Un cortocircuito dei frigoriferi ha innescato l'incendio al ristorante Osteria La Grotta Rossa, principio d'incendio sul bus sventato dall'autista, passeggeri in columi. Entro fine mese la dismissione della caserma Giulio Cesare di Via Flaminia dopo 83 anni, intanto tiene banco la discussione sul futuro dell'area. La prima estate è plastic free digerita bene dagli operatori di spiaggia riminesi che si sono adeguati alla nuova ordinanza balneare, il primo bilancio del comune di Rimini. Ben rientrati in studio, albergatori, lavandai, barbieri e ambulanti, è variegata la categoria dei furbetti che non emettono fattura o scontrino. La Guardia di Finanza ne ha scovati alcuni. Vediamo. 3 e 6 giorni di chiusura per la reiterata mancata emissione dello scontrino fiscale. Due negozi di Rimini sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza, che al termine di accurati accertamenti ha segnalato all'Agenzia delle Entrate le ripetute violazioni. Non una novità per un mini-market gestito da un egiziano per una lavanderia di proprietà di un riminese, già in passato sanzionate per non aver rilasciato lo scontrino. 5 sono stati documenti fiscali non emessi dal gestore del mini-market durante l'arco di tempo in cui la sua attività è stata monitorata dai finanzieri, mentre 8 sono quelli non rilasciati dal titolare della lavanderia. Ma non fare lo scontrino è diventato un'abitudine purtroppo comune a molti negozianti, non solo a Rimini. In provincia, infatti, sono stati 782 ad oggi i casi di mancata emissione del documento fiscale, a fronte di un incasso di oltre 125.000 euro, che senza l'intervento delle fiamme gialle sarebbe avvenuto in nero. Partendo proprio dall'attività di contrasto all'evasione e all'abusivismo commerciale, la finanza ha scovato due riminesi, un albergatore che gestisce un due stelle e un barbiere, che non solo non emettevano sistematicamente fatturo scontrini, ma che non avevano neppure presentato la dichiarazione dei redditi. In pratica erano degli evasori totali, così come due riccionesi, un commerciante di bigiotteria e un ambulante, sconosciuti al fisco. Per tutti e quattro è scattata la segnalazione in procura. È partito dalla zona dei frigoriferi, probabilmente per un cortocircuito, l'incendio di ieri sera attorno alle 23 nel ristorante Osteria La Grotta Rossa a Rimini, a un centinaio di metri dall'incrocio tra le via della Grotta Rossa e via della Gazzella. Il locale è temporaneamente chiuso per lavori, sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, limitando nella propagazione e arresto del locale. Con un moto ventilatore hanno liberato l'osteria dai fumi della combustione e messo in sicurezza la struttura. L'intervento è durato circa due ore e la polizia municipale ha gestito il traffico, mentre i carabinieri i rilievi. Vediamo l'intervento dei vigili del fuoco nelle fotografie che la regia ha mandato in onda. Invece questa mattina c'è stato un principio di incendio su un autobus della linea 19. Il mezzo si trovava in zona stazione a Rimini e aveva a bordo tre passeggeri. L'autista è subito intervenuto con l'estintore del bus, al quale se ne sono aggiunti altri tre prelevati dai mezzi in sosta. In columi i passeggeri, sul posto i vigili del fuoco, a causare l'incendio sembra sia stata una sospensione posteriore. Start Romagna avvierà una verifica per capire quanto accaduto. Le tre persone a bordo sono state trasferite su un veicolo di scorta. Ci sono state ripercussioni sul traffico. Ultimi giorni a Rimini per i militari del 121esimo reggimento artiglieria contraerei. La dismissione della caserma Giulio Cesare è prevista infatti per fine mese. Il 16 e 17 settembre ci saranno due iniziative di commiato. E intanto tiene banco il futuro dell'area. Vediamo. Tra poche settimane i militari daranno l'addio a Rimini. E' partito infatti il conto alla rovescia per la dismissione della caserma Giulio Cesare che sarà liberata entro la fine di settembre. Il 17 alle 18, proprio all'interno della struttura, si svolgerà la cerimonia di commiato del secondo gruppo del 121esimo reggimento artiglieria contraerei alla presenza delle autorità locali. La sera precedente, il 16 settembre alle 21, ci sarà anche un momento cittadino nell'arena Francesca da Rimini, in centro, col concerto della banda dell'artiglieria aperto a tutti i riminesi. Resta da capire però cosa ne sarà dei 70.000 metri quadri della caserma da ottobre. Non vorrei che diventasse un luogo abbandonato e a rischio degrado, aveva detto a fine giugno Andrea Agnassi, in un incontro col prefetto, il sottosegretario Morone e il generale Farina. Il primo cittadino, che nell'occasione aveva espresso anche la volontà del comune di acquistare eventualmente l'area, era tornato a parlare della caserma anche a fine luglio. Nell'occasione aveva proposto di utilizzare l'area per dare una sede definitiva alla nuova questura, nel caso dal governo non fossero arrivati i dettagli su modalità e risorse per il buco nero di via Bassi. O ci dicono come vogliono fare la cittadella della sicurezza in via Ugo Bassi, entro quando e con quali soldi, aveva tuonato il sindaco dando il 12 agosto come ultimatum, o su quell'area avvieremo procedure e azioni per un utilizzo diverso, proponendo l'area della caserma come idonea per un utilizzo immediato. Nel frattempo però il governo è caduto e il comune attende di poter riformulare la richiesta al nuovo ministro degli interni. La prima estate plastic free è stata digerita bene dagli operatori di spiaggia riminesi, che si sono adeguati senza troppi problemi alla novità prevista dalla nuova ordinanza balneare. E per il comune di Rimini è tempo dei primi bilanci. Vediamo. Buona la prima per Rimini spiaggia plastic free. Quando ormai mancano pochi giorni al termine della stagione turistica, si cominciano a fare i primi bilanci sul rispetto dell'ordinanza balneare che quest'anno prevedeva dal 1 luglio lo stop in bare ciringhito dell'uso di bicchieri e cannucce di plastica monouso da sostituire con materiale di carta e compostabile. Una trentina ai controlli fatti dagli agenti della polizia locale che hanno riscontrato il sostanziale rispetto dell'ordinanza. Soddisfatta di come è stata recepita la novità, anche l'assessore all'ambiente Anna Montini. Ma è andata bene, decisamente bene. Senza dubbio l'adozione è stata massiccia. Io personalmente, ma anche tanti altri, sono andati a vedere sia nel ristobar sia nel ciringhito. Nel ciringhito ho visto con piacere tanto uso di bicchieri riutilizzabili in policarbonato che alcuni riportavano nel bar principale per il lavaggio, altri avevano addirittura installato delle lavastoviglie direttamente presso il ciringhito stesse. Poi un po' di monouso è rimasto, ma non di plastica. Va ricordato che ci sono studi che dimostrano che durante l'estate finiscono in mare comunque delle quantità di rifiuti molto più elevati rispetto agli altri mesi dell'anno. E questo perché ovviamente la pressione sulle spiagge, non solo a Rimini, ma su tutti gli 8 mila chilometri di costa che abbiamo in Italia e anche altrove in Europa, la pressione sulle spiagge è maggiore perché ci sono tanti turisti e tante persone che vanno. Si intitola Italino Mulazzani, dialoghi tra gli ulivi, una delle ultime opere dello storico dell'arte Ernesto Paleani. Nel testo, dedicato all'imprenditore edile, ha anche il contributo pittorico di un artista riminese. Un dialogo tra gli ulivi diventato una biografia del noto imprenditore Italino Mulazzani. L'infanzia a Trebbio di Montegridolfo, dove il padre si trasferì per alcune commesse edili, i primi lavori nei cantieri, la grande crescita imprenditoriale del gruppo negli anni 70, ma anche i giorni bui della crisi, il fallimento del 2013 e le vicende giudiziarie degli ultimi anni. A scrivere e pubblicare il libro, omaggio agli 85 anni di Mulazzani, lo storico dell'arte e giornalista Ernesto Paleani. Mi ha interessato molto la parte finale della sua vita, ossia questo aumentare la sua conoscenza nell'ambito dell'imprenditoria e dell'edilizia e improvvisamente crollare. Ho voluto creare questo dialogo platonico, questa scuola peripatetica greca, nel senso che si dialogava in due, appunto tra gli ulivi. E l'ho intramizzato anche con, quando lui citava qualche città, qualche chiesa, ho voluto affrontare anche il tema storico, perché è il mio tema. E quindi ho dato una storicità alla sua famiglia e a lui come imprenditore. Aprendi il libro una sorpresa, un ritratto dell'imprenditore Mulazzani, della pittrice Denise Camporesi. Ho conosciuto Italino Mulazzani, una persona splendida, meravigliosa, molto generosa. E ho disegnato il suo ritratto nel giardino. E prossimamente avrò in serbo altre cose per il professor Paleani, soprattutto il suo prossimo libro che presenterà a Rimini, Leonardo da Vinci e Cesare Borgia con il patrocinio di Rimini. Quindi sarà una sorpresa per tutti. La storia di Arpad Weitz, uno degli allenatori più vincenti del calcio europeo, conclusasi tragicamente nel campo di sterminio di Auschwitz, è stata lo spunto per una serata di riflessione sulla lotta alle discriminazioni e sullo sport come veicolo di educazione alla tolleranza e al rispetto della persona. Con due relatori d'eccezione come Matteo Marani, giornalista sportivo di Sky Sport e autore del libro che racconta la storia di Weitz, e Daniele Adani, noto ex calciatore e commentatore di Sky Sport. La serata, organizzata nell'ambito di riutilizzarsi Colonia Bolognese 2019 da Associazione Italiana Calciatori, Sportellate e Associazione Il Palloncino Rosso, sarà trasmessa su Icaro TV domani sera alle 21.30 dopo la presentazione del Cattolica Calcio. Vediamo un assaggio. Era scomparso l'allenatore che aveva vinto in Italia, lo vado elencando. Scudetto del 1929-30, oggi noi stiamo celebrando i 90 anni della Serie A, la Serie A nasce nel 1929-30, quel campionato lo vince l'Inter Ambrosiana e l'allenatore dell'Inter Ambrosiana si chiama Arpad Weiss. Vince il campionato a 34 anni, nessuno non solo l'ha più superato, nessuno l'ha neanche avvicinato. Quando Mancini ha vinto il campionato, e si è detto giustamente che l'allenatore è molto giovane, l'ha vinto a 44 anni, 10 anni più tardi. Ancora quel primato lì, Arpad Weiss. Poi cosa ha fatto? Nel 1935 Arpad Weiss arriva a Bologna e vince lo scudetto del 1935-36 e si ripete l'anno dopo, fa doppietta, 1936-37, tre scudetti. Alla fine del campionato 1937, il Bologna viene chiamato a Parigi, insieme a tutte le squadre campioni d'Europa, dei vari campionati, per fare quella che allora è una Champions Antelitteram. In realtà si gioca per il trofeo dell'esposizione di Parigi, perché a Parigi c'è l'Expo e quindi si decide di fare questo torneo. Ed è la prima volta che una squadra inglese accetta di sfidare le squadre del continente. I primestri del calcio inglese ovviamente non accettavano il confronto con quelli del continente. Accettano la sfida e vanno in finale il Bologna contro il Chelsea. Ovviamente le storie sono andate poi un po' diversamente tra il Chelsea di oggi e il Bologna di oggi. Fatto sta che il Bologna vince quella finale per 4-1 ed è il momento più alto nella storia di tutto il Bologna. Ma se tutti sono bravi, la maggior parte delle persone sono per bene e sono solo 30, ma non si riescono a mettere da parte 30, il problema sai cos'è? Che le altre persone sono certamente per bene i tifosi, sani, che fanno sacrifici per venire allo stadio e godersi lo spettacolo e sostenere la propria squadra. Ma il problema è che non sono solo quei 30, ma i colpevoli vanno trovati più in alto. E sono coloro che stanno zitti, coloro che sono al potere, coloro che rappresentano le istituzioni, le federazioni, e non fanno nulla per mettere a posto quei 30. Ma non a parole oggi per poi dimenticarselo domani, perché questa è la verità. È tutto per noi. Vi ricordo domani mattina l'appuntamento con la rassegna stampa alle 7.30, poi il nostro sito di informazione, newsrimini.it, sempre aggiornato in tempo reale, ovviamente le frequenze di Radio Icaro e il canale 91. Buona serata. Grazie. Grazie.